Innanzitutto io ringrazio gli organizzatori, ringrazio Alberto per l'invito, ringrazio il professor Bucchi per questa rassegna e prendo avvio innanzitutto condividendo la presentazione che ho preparato per voi. Quindi, ecco qua, che ci guiderà attraverso questi 40 minuti. Faccio partire anche il cronometro così evito di sbrodolare. Allora, di cosa parliamo oggi? Beh, innanzitutto, come potete già notare dal titolo, ci occuperemo di un ambito molto specifico dell'orizzonte audiovisivo, in particolare quello che viene comunemente chiamato video e cercheremo di capire quali siano le implicazioni di una specifica tipologia di video da punto di vista tecnologico, ossia il video analogico, che non è appunto il video come, insomma, a livello di strutture tecnologiche, non corrisponde al video che noi conosciamo oggi, ovvero il video digitale, video condivisibile su YouTube, su diverse piattaforme, ma fa riferimento a un orizzonte tecnologico ormai decaduto, del passato. E quindi, una delle domande a cui cercherò di rispondere è innanzitutto come si possa studiare, anche, insomma, che credo che possa essere molto interessante dal vostro punto di vista, come si possa studiare una tecnologia, tra virgolette, del passato? Beh, appunto, come ha detto il professor Brodesco prima, ci si muove tra un orizzonte storico e un orizzonte archeologico. E cosa intendo io per l'archeologia dei media? Beh, l'archeologia dei media è una branca di studi amplissima, che ha diverse correnti al suo interno. Io la intendo un po' come una sorta di tentativo di restituire il senso dell'orizzonte comune, dell'utilizzo della tecnologia, focalizzandosi in particolare sulla questione della cultura materiale, ovvero di tutti quegli oggetti che ci sono stati lasciati come reperti del passato mediale e delle pratiche che a questi reperti in qualche modo si collegano. Quindi, quando poi si parla in questo caso di video e di video analogico, che cosa si intende esattamente? Il video è il film che il rapporto c'è tra video e, tra virgolette, cinema. Beh, innanzitutto va detto che si tratta di orizzonti tecnologici completamente diversi, al punto che non solo i cosiddetti apparati di base, cioè le basi tecnologiche del medium, ma le pratiche che a esso rimandano sono sostanzialmente diverse, per cui si parla addirittura di due orizzonti mediali diversi, un conto è il video, un conto è il film, sebbene poi, appunto, ci siano dei punti di intersezione. E sebbene oggi, all'interno di un orizzonte post-cinematografico e di rilocazione dei media, questi due ambiti siano sempre più integrati, ma adesso non complichiamoci la vita, cerchiamo di, appunto, di lavorare su cose semplici, appunto. Video e film sono due orizzonti mediali diversi. Il film, a livello di apparati di base, ha questi, una cinepresa su cui si impressiona una pellicola, che viene poi proiettata attraverso questo dispositivo, questo oggetto tecnico, che vedete più in basso, che è, appunto, il proiettore. Il video, invece, fa riferimento, appunto, a un sistema tecnico che è completamente diverso. Abbiamo una videocamera per registrare, che non è una cinepresa, sebbene ci assomigli, questo perché? Perché non impressiona nessuna pellicola, ma trasforma, tra virgolette, i raggi luminosi in impulsi elettromagnetici che vengono registrati su questi nastri, che sono riempiti di ossidi di ferro e di pasta magnetica. Quindi, quando voi, non so se avete mai fatto, forse siete un po' giovani rispetto a questa tecnologia, quindi non l'avete mai maneggiata, forse, però non so se voi avete mai fatto la prova di aprire una VHS. Beh, dentro a una VHS voi non trovate una pellicola con i fotogrammi, cioè tante piccole fotografie che scorrono o 24 o 18 fotogrammi al secondo e che danno, appunto, l'impressione delle immagini in movimento e la sensazione, la percezione delle immagini in movimento. Qui abbiamo semplicemente una striscia nera che in realtà ha dentro degli ossidi di ferro che si orientano in funzione dell'onda elettromagnetica. Questo nastro può essere letto, poi, appunto, da un videoregistratore, che è questo sorta di mangianastri gigante che vedete, appunto, di fianco alla videocassetta e che, appunto, permette di leggere questi oggetti. Chiaramente, sia il film, sia il video, alla fine si occupano di immagini in movimento, ma la struttura degli apparati di base e le pratiche che adesso si collegano e adesso si collegano sono sostanzialmente diverse. A livello di tecnologia, appunto, il video non nasce, appunto, nel 1895 come il cinema, nasce ben più di 50 anni dopo e nasce, appunto, attraverso questo mastodontico marchigegno che è un registratore Ampex a due pollici, quindi avete dei nastri open reel, cioè a scatola aperta, larghi, due pollici, e che serviva inizialmente come supporto di registrazione della televisione. Man mano, però, e quindi, appunto, il video nasce, il medium video, nasce, in qualche modo, in stretta relazione con un terzo medium che è, appunto, la televisione. Pian piano, però, cosa succede? Succede che i supporti di registrazione subiscono, da una parte, un processo di miniaturizzazione. Adesso vedremo meglio con questa timeline. E successivamente, in relazione a questa miniaturizzazione, cambiano anche l'orizzonte e il contesto d'uso, per cui, appunto, da il nastro a due pollici che viene usato negli studi televisivi per registrare i spettacoli televisivi, si passa a nastri a un pollice, quindi un pochino più portatili, tra virgolette, portabili, quindi più utilizzabili. Ma non solo, dal pollice si passa al tre quarti di pollice, oppure al mezzo pollice open reel, cioè non chiuso all'interno di una cassetta, ma, appunto, a nastro libero. Beh, il tre quarti di pollice in cassetta, il cosiddetto Umatic e il mezzo pollice, sono degli oggetti tecnici che vengono usati all'interno di contesti diversi rispetto alla televisione, in particolare all'interno di contesti artistici. E quindi, appunto, il video si avvicina e diventa un nuovo strumento per l'arte contemporanea e successivamente, man mano che i costi scendono, si apre anche tutta quella fetta di mercato consumer, cioè, appunto, di... quell'ambito commerciale in cui il punto di riferimento è rappresentato da, tra virgolette, il buomo comune che va a comprare tecnologia come se fosse qualsiasi altro bene e che corrisponde, appunto, più o meno con la metà degli anni 70 che vedono la grande diffusione di formati, di standard dei formati video come il VHS, il Betamax, che diventano centrali per la vita domestica dei media. Questo perché? Perché permettono di registrare dalla televisione. E quindi questo supporto diventa uno strumento per, tra virgolette, come dice Sean Qubit, in qualche modo per sabotare il medium televisivo che fa della trasmissione live uno dei propri strumenti principali, uno dei propri orizzonti principali e del palinsesto, lo strumento d'ordine dei programmi, beh, appunto, questi strumenti, cioè il video VHS e il Betamax, collegati a un televisore, e consentono di effettuare quello che lui chiama il time shift, cioè non siamo più obbligati a seguire il palinsesto, ma c'è uno shift temporale che ci permette poi di registrare ciò che vogliamo e rivederlo, appunto, quando vogliamo. Contraddicendo, appunto, la logica del palinsesto e anche la logica della liveness. Ma, peraltro, appunto, questo, apro una parentesi, la chiudo subito, crea innanzitutto un problema di diritti, tant'è vero che nel 1976 la Universal, seguita dalla Disney, fa causa alla Sony, che produce il formato Betamax, e dà vita, appunto, a questo contenzioso per infrazione del diritto d'autore. È una causa che poi durerà circa 8-9 anni, si concluderà a metà degli anni Ottanta con la vittoria di Sony, e da lì in poi, appunto, esploderà, appunto, tutto il consumo di elettronica video a livello domestico. Ma questi dispositivi, questi oggetti tecnici, non servono soltanto a registrare quello che è possibile vedere in televisione. Questi oggetti vengono utilizzati anche per, da dei videoamatori, per riprendere ciò che li circonda, quindi i propri familiari, le cose che stanno più, in generale, possono stare più a cuore. Tutto questo si unisce a un percorso di miniaturizzazione ulteriore, che porta dal, per esempio, VHS e dal Betamax ad avere dei formati 8 mm, quindi delle cassettine, cassettine grandi quanto fondamentalmente una musicassetta, che vengono utilizzate all'interno di macchine, di videocamere, sempre più portatili. Ok, questo più o meno per darvi l'idea di un quadro generale della timeline del video. Il video analogico si sviluppa appunto fino a, fino agli anni 80, metà agli anni 90, quando poi vengono introdotte tutte le tecnologie digitali. Cosa cambia? Beh, cambia fondamentalmente che il nastro non registra più un'onda elettromagnetica, ma trasforma le informazioni visive in bit, quindi in 0 e 1. Quindi c'è un salto, diciamo, tecnologico che fa sì che appunto questo discrimine porti alla differenziazione tra, dall'ambito del video analogico da quello del video digitale. E siamo più o meno a metà degli anni 90. Noi ci occuperemo di tutto quello che succede appunto nell'ambito del video analogico, quindi metà anni 70, metà anni 90, con un focus specifico sugli anni 80. Questi sono i formati di cui vi ho parlato prima. A sinistra vedete il Betamax, a destra è un formato che penso abbiate visto tutti, ovvero l'UHS. Quelli più sotto sono quei due formati di cui vi parlavo, ovvero il Video 8 e l'i8, che hanno più o meno la dimensione di una cassettina che vengono utilizzati in videocamere portatili. C'è una differenza fondamentale se cominciamo a ragionare più in termini di ergonomia della macchina, cioè di caratteristiche e di rapporto tra macchina e corpo. E questa differenza fondamentale è rappresentata dalla macchina che vedete a destra, ovvero il Betamovie, che funziona con la tecnologia Betamax e che viene commercializzata alla fine del 1983. Il Betamovie è la prima videocamera compatta, ovvero che unisce insieme ottiche e strumento di videoregistrazione e che permette di non andare in giro, come fa il signore sulla sinistra, ovvero con una camera molto pesante che non ha una cassetta all'interno e che per registrare ha bisogno di essere collegata a un videoregistratore, che è quello che porta nel borsello. Quindi voi dovete immaginare che dalla metà degli anni 70 fino al 1983 l'unico modo a livello videomatoriale per riprendere delle immagini era avere questo ingombro, ovvero una camera attaccata con un cavo a un videoregistratore che bisognava portare sull'altra spalla. Dal 1983 in poi, invece, camera e ottiche si compattano in un unico oggetto che può essere utilizzato semplicemente come una videocamera leggera che non comporta altre ingombre se non appunto il corpo, macchina e le ottiche. Il tema che vi dicevo è un po' questo poi, come effettivamente possiamo studiare questi oggetti tecnici che io immagino voi, cioè voi siete abbastanza giovani, non so se li avete mai visti oppure se i vostri genitori li avevano o li hanno in casa e vi hanno mai fatti vedere, però sono degli oggetti che in qualche modo vi appaiono come fondamentalmente estranei. Non penso che appunto voi abbiate mai avuto modo di maneggiarli, al più voi siete riusciti a, come dire, incrociare l'ultima ondata delle videocamere digitali estremamente compatte che stanno in una mano. Questi sono degli oggetti che funzionano appunto attraverso tecnologia digitale per cui succede che voi magari fate delle riprese e scaricate subito il contenuto sul computer e se siete abbastanza competenti potete anche in qualche modo montare e montare i video. Qua invece si tratta appunto di una tecnologia precedente che funziona secondo appunto delle cassette analogiche che per essere viste devono essere inserite in un videoregistratore e che appunto per essere a livello amatoriale, video amatoriale per essere riprese devono essere inserite e utilizzate all'interno di una videocamera tipo quelle che abbiamo visto fino ad adesso. La domanda delle domande appunto diventa questa, ovvero come possiamo studiare questi oggetti tecnici che ci appaiono estranei che in qualche modo appartengono già ormai a un passato mediale, un passato prossimo, però un passato mediale. Io in generale quando cerco di affrontare questi temi e questi oggetti lavoro su tre livelli. Cioè il primo è lo studio dell'affordances di un oggetto tecnico e dopo vedremo per bene il concetto di affordance ma penso che voi insomma in quanto studiosi di STS siate abbastanza familiari con questo concetto ma lo vedremo applicato. La ricostruzione della rete tecnica che sta alla base di questo oggetto tecnico e che rimanda a dinamiche di puntualizzazione anche qua è un concetto che proviene dall'actor network theory di Bruno Latour e Madeleine Krish eccetera e che può essere utile per riflettere sul fatto che quando ci troviamo di fronte a questi oggetti tecnici non ci ritroviamo mai soltanto a un punto singolare ma dobbiamo fare sempre riferimento a un sistema dei media che ruota attorno a questo oggetto tecnico. E in ultima istanza ed è uno dei temi che più si collegano all'orizzonte dell'archeologia dei media e in particolare all'archeologia dei media un studioso finlandese che si chiama Erkyo Tamo ovvero il tentativo di ricostruire i discorsi riguardanti l'oggetto tecnico. Proviamo appunto innanzitutto a vedere il concetto di affordance. Che cosa si intende per affordance? Beh, innanzitutto è un concetto centrale per la semiotica degli oggetti da appunto l'elaborazione di James Gibson per attraversare Donald Norman e poi sempre la teoria dell'actor network theory e fondamentalmente ci dice questo cioè gli oggetti tecnici non sono mai degli oggetti inerti non sono mai degli oggetti che chiusi in loro stessi in qualche modo essi posseggono delle proprietà reali o percepite che influenzano i modi in cui gli user li utilizzano. Queste proprietà appunto sono le affordances fondamentalmente quello che succede è che ogni volta che voi utilizzate un oggetto tecnico c'è sempre una sorta di rapporto di feedback con l'oggetto tecnico e raramente voi fate fare all'oggetto tecnico esattamente quello che voi volete che esso faccia si stabilisce appunto una sorta di rapporto per cui io in quanto user devo sempre fare riferimento a quelle che sono le condizioni di possibilità tecnica dell'oggetto e appunto le sue proprietà reali o percepite cosa significa questo proviamo a riflettere su quelle che possono essere le affordances di un oggetto tecnico come questo questo come vedete anzi ve lo dico io è una videocamera è una videocamera i8 anzi video 8 scusate e che appunto ha specifiche proprietà innanzitutto come vedete è una camera cioè voi non potete avere bene idea delle proporzioni perché qua non c'è nessun riferimento però vi posso dire che è una camera altamente portabile fate conto sarà lunga circa 20-25 centimetri non di più è una telecamera per gli standard dell'epoca almeno lo era molto leggera e che quindi permette una portabilità quindi a livello di ergonomia presenta determinate caratteristiche la prima è la questione della portabilità non solo come vedete ha anche qua c'è l'indicazione di un monitor LCD questo cosa vuol dire vuol dire che tra le sue proprietà non c'è soltanto la portabilità ma c'è anche la possibilità di rivedere quello che è stato girato oppure meglio ancora quello di staccare l'occhio dal viewfinder cioè dal mirino per portarlo dove in generale staccandolo dall'occhio per farsi poi guidare da quello che si vede sul monitor LCD che diventa appunto il vero riferimento il vero tra virgolette mirino di quello che sto guardando questo cosa importa beh pensate a livello corporeo cosa implica che rapporto io stabilisco con questo oggetto non devo più stare attaccato al mirino per vedere cosa sto riprendendo ma posso staccarlo dal corpo posizionarlo anche in posizioni metterlo anche in posizioni diverse da appunto quelle che si stabiliscono con una sorta di assialità tra mirino e occhio e quindi in qualche modo si realizza una sorta di distacco tra uno sguardo che è tarato sulla testa e che quindi fa sì che la camera sia quasi un prolungamento dell'occhio e appunto tutto ciò consente di adottare dei punti di vista a volte bizzarri per esempio io posso rivolgere e controllare contemporaneamente l'inquadratura posso rivolgere la videocamera verso di me e controllare contemporaneamente l'inquadratura e quindi appunto di nuovo la miniaturizzazione come voi sperimentate ogni giorno permette all'io tra virgolette quindi a noi stessi a chi sta producendo il video di entrare in campo e di non essere soltanto colui che sta girando il video ma anche in qualche modo di essere protagonista del video ma non c'è solo questo prendete tutti i comandi che vedete per esempio sulla sinistra noi sappiamo che l'immagine può avere determinate caratteristiche fisiche in funzione della temperatura colore cioè ovvero delle dominanti di colore che posso avere sull'immagine come faccio controllare queste queste dominanti devo come si dice in gergo devo fare bianco cioè devo trovare un punto di bianco che mi faccia da riferimento per tutta la scala la scala dei colori eccetera eccetera e quindi appunto quando parliamo di affordances parliamo appunto di tutto quello che l'oggetto tecnico mi permette di fare in un rapporto di feedback continuo tra l'oggetto tecnico il mio corpo il mio orizzonte percettivo quindi fondamentalmente attraverso questa dinamica potremmo avere una prima descrizione dell'oggetto tecnico ma non c'è solo questo perché ogni oggetto tecnico appunto non è un'isola ma fa parte di un arcipelago localizzato sia a livello micro sia a livello macro adesso vedremo per bene cosa intendo con questa differenziazione in altri termini come ho scritto nella slide ogni oggetto tecnico fa parte di un sistema di una rete che lo lega ad altri vi sono dei processi che sono dei processi materiali tecnologici economici e sociali che portano a costituire questo oggetto all'interno di una rete più ampia una rete che appunto come vi ho detto agisce sia a livello micro sia a livello macro proviamo a vedere che cosa si intende con queste due dimensioni beh a livello micro questa è già una rete abbiamo un videoregistratore che viene collegato a un televisore altrimenti il video non si può vedere ma il televisore poi può essere collegato a molti altri dispositivi locali qua appunto è già un esempio abbastanza avanzato nel senso che non c'è soltanto il collegamento all'antenna ma c'è anche il collegamento per esempio all'antenna le vecchie antenne terrestri ma c'è anche il collegamento per esempio alla parabola già questo è un ensemble tecnico è una rete tecnica che agisce a livello locale e che dimostra e che descrive in qualche modo come una possibile configurazione di una rete tecnica fate conto più o meno all'inizio degli anni 90 quando le parabole cominciano a diffondersi che prende corpo all'interno di una casa quindi questo è un livello micro un livello locale di rete tecnica ma non c'è soltanto questo perché come emerge da questa illustrazione che ho trovato in una rivista specializzata del 1981 il videoregistratore può anche essere collegato con dei dispositivi che consentono di convertire e di trasformare in video analogico i contenuti di trasporre su video analogico dei contenuti su film in particolare sui vecchi sui formati ridotti cioè quei formati sotto il 35 millimetri che venivano utilizzati nelle case prima dell'avvento delle video quindi l'8 millimetri 16 millimetri eccetera eccetera e questa è una rete che in qualche modo consente di collegare delle tecnologie del passato quindi i vecchi film e anche le diapositive in nel nuovo nel cosiddetto nuovo orizzonte degli anni 70-80 ovvero il video analogico ma non c'è soltanto questo come vedete il video il sistema del video la rete tecnica del video si può estendere espandere più o meno come si voleva al tempo perché perché voi dovete pensare che come dice Roger Ogeni in un libro che si chiama La condizione post-mediale che vi consiglio anche di leggere se non l'avete mai fatto a partire dagli anni 80 inizia un percorso appunto di convergenza di tutti i media che ha come come uno dei centri proprio appunto la questione dello schermo e in particolare il televisore al televisore possono essere collegati appunto il lettore il lettore video il videoregistratore ma anche tutti quei microprocessori che venivano utilizzati per i videogame le prime console oppure c'è il collegamento tra tv e la cosiddetta tv via cavo all'epoca appunto si pensava di poter collegare in maniera appunto diversa ovviamente da quello che accade adesso il televisore con il home computer eccetera eccetera quindi quando parliamo di video e di video analogico noi stiamo parlando non soltanto della videocamera che abbiamo visto prima e non soltanto di quel dispositivo che permette di convertire il film appunto in video ma anche di questa complessa rete in cui abbiamo dispositivi locali ma poi anche collegamenti con il cosiddetto orizzonte broadcast quindi le emittenti televisive le televisioni via cavo eccetera eccetera i satellite eccetera eccetera ovviamente queste reti tecniche sono al centro dell'elaborazione dei discorsi sugli oggetti tecnici e in particolare delle rappresentazioni di questi oggetti tecnici che avviene nelle riviste specializzate questi discorsi di pari passo con le tecnologie si sviluppano con il tempo e in particolare per esempio c'è questa questa è la prima rivista italiana specificamente dedicata al video che si occupa appunto della questione della transizione da cinamatorialismo a vidamatorialismo come uno degli elementi fondanti della nuova pratica vidamatoriale ma le questioni riguardanti il video non vengono trattate soltanto all'interno delle riviste esclusivamente dedicate al video per esempio riviste come questa fotografare ha e presenta a più riprese una rubrica dedicata al video e soprattutto si occupa come vedete qua nel titolo di fianco alla alla giovane signorina si occupa anche delle questioni relative alla transizione da formati cinamatoriali in generale tutto ciò che riguarda il cinema a il nuovo orizzonte mediale rappresentato dal video questo è appunto la la rubrica che si intitola videografare che è tenuta da un esperto fotografo cineasta che è Gianfranco Mantegna che per un certo periodo lavora anche con diverse compagnie teatrali New York insomma è un esperto del campo si occupa di questioni anche molto tecniche come vede cioè il problema per esempio degli standard del video quindi degli standard tecnici del video altro orizzonte interessantissimo presente all'interno di queste riviste è la questione della della pubblicità ovvero come una nuova tecnologia un nuovo orizzonte mediale viene in qualche modo disseminato a livello pubblicitario quindi con un fine preciso di nuovo la questione della transizione da un ambito mediale cinematografico all'altro viene evidenziata questa cosa cambia sensibilmente nel momento in cui entriamo negli anni 80 il video ormai si afferma come medium egemone e a partire da due riviste specializzate che sono video magazine questo è il primo numero del settembre dell'81 e video questo è invece il primo numero del novembre dell'81 oltre a questioni di natura prettamente tecnica possiamo entrare in contatto con questioni di natura più ampia quindi non solo la futurologia del video che ucciderà finalmente la cinematografia ma anche questioni di natura più più riguardanti la diffusione del video a livello generale in particolare qua si parla delle VHS di edizione che permettono di diffondere i film a livello domestico con una tecnologia con appunto la tecnologia che abbiamo visto prima quindi i videoregistratori che vengono collegati direttamente al televisore quindi anche qua c'è una pratica di rimediazione che vede al centro cinema e televisione che porta la visione di questi film in televisione c'è la questione fondamentale rispetto alla questione della cultura video ovvero il rapporto tra video e arte queste riviste ospitano molto spesso delle rubriche dedicate per esempio alla Biennale di Venezia o in generale a riflessioni sulla television art sulla video arte e affidano la riflessione a critici o a docenti o a studiosi di altissimo valore come per esempio in questo caso Vittorio Fagone che è autore di diverse monografie sulla video arte ovviamente c'è anche la dimensione della diffusione del porno a livello domestico quindi soprattutto per la rivista video c'è una un inserto chiuso cioè che va aperto con una lametta al cui interno è possibile trovare recensioni di film porno o anche come dire articoli dedicati alle principali star dell'hard soprattutto statunitense c'è la dimensione videoludica il videoludico ovviamente come abbiamo visto nello schema che vi ho fatto vedere prima il video e il televisore e in generale tutto questo ambito della cultura video si collega anche con l'ambito videoludico e ci sono ovviamente le rassegne delle prime console Atari in particolare come in questo caso come vedete poi sono tutti giochi a 8 bit molto molto rudimentari ma era quello che passava il convento all'inizio degli anni 80 e infine c'è l'elemento costante che è presente sia nelle riviste degli anni 70 ma anche che persiste che sopravvive anche all'interno degli anni 80 ovvero le raccomandazioni su come effettuare e su come girare dei video che rispettino quelle che sono le tra virgolette le buone pratiche cioè per girare un buon video io devo rispettare determinati criteri devo appunto fare il bilanciamento del bianco devo comporre l'inquadratura in una maniera che essa sia costantemente bilanciata che non ci sia troppa aria c'è troppo spazio sopra la testa della figura che sto rappresentando che non ci sia troppa distanza troppa poca distanza tra per esempio la figura come si vede qua tra la figura del margine destro una composizione che rispetti più che altro delle linee diagonali e non tenda mai a schiacciare le figure frontalmente eccetera eccetera questo crea un ambito di pratiche di buone pratiche che però ovviamente e qua mi avvio a concludere ancora giusto tre minuti giusto un orizzonte di buone pratiche che costituisce se vogliamo una dimensione controfattuale cioè nessun video amatore tiene mai conto di appunto queste queste buone indicazioni vi faccio vedere che cosa intendo e riprendo insomma un video amatoriale dell'85 ok e vi faccio vedere che fondamentalmente tutte queste raccomandazioni vengono rispettate quasi mai quasi mai come vedete ci sono queste zoomate velocissime che di solito sono sconsigliate di buona prassi c'è un'interazione con il soggetto con un'infrazione netta del divieto di interpellazione che governa il cinema di fiction ma tutto questo perché fondamentalmente il video amatore in questo caso è guidato da un interesse specifico ovvero riprendere suo figlio Leonardo che vedete qua in che vedete qua e quindi bloccare questo questa porzione di realtà e elaborare una sorta di memoria visiva di Leonardo bambino al video amatore non interessa comporre l'inquadratura perfetta interessa catturare questa porzione di reale in maniera a volte anche appunto ingenua non elaborata a livello linguistico ovviamente poi ci sono anche cose interessanti nel senso che poiché questi dispositivi permettevano di registrare da una videocamera e di registrare da televisione ci sono delle cassette in cui abbiamo appunto registrazioni dei bambini e poi a un certo punto ogni registrazione si interrompe e comincia un film registrato dalla RAI come in questo caso in questo caso è Herbie il maggiorino tutto matto quindi è una sorta di melange di immagini che fa riferimento poi a da una parte il consumo mediale televisivo e dall'altra parte appunto l'orizzonte vita amatoriale torno un attimo alla presentazione ecco qua e poi vado a concludere quindi abbiamo che queste indicazioni di ripresa queste buone prassi sono delle cose che al massimo indicano a livello astratto ciò che il il video amatore deve fare e appunto buone prassi che sono appunto buone prassi che il video amatore non rispetta quasi mai e quindi appunto nel momento in cui noi dobbiamo cercare di ricostruire l'orizzonte dei media di un passato in particolare di un oggetto tecnico del passato possiamo fare riferimento un pochino a questo schema da una parte abbiamo l'orizzonte delle tecnologie con l'hardware abbiamo visto prima la questione dell'affordances ovviamente questioni di natura economica come queste cose vengono immesse sul mercato come questi oggetti tecnici poi diventano obsoleti e questo orizzonte si collega da una parte con quelle pratiche qua è scritto testualizzate ma è un termine errato potremmo dire meglio delle pratiche formalizzate che sono quelle che troviamo appunto nel appunto nei magazine nei manuali eccetera eccetera con tutto questo orizzonte delle pratiche non formalizzate che fa riferimento a quello che poi il bidamatore faceva con 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 l'oggetto tecnico nel momento in cui in maniera spontanea decideva di per esempio appunto riprendere il figlio come abbiamo visto prima tutto questo va poi calato e messo in relazione con i discorsi più ampi che abbiamo visto prima cioè il rapporto tra oggetto tecnico e ambiti come videoarte televisione film in televisione orizzonte videoludico che sostanzialmente conferiscono profondità una profondità culturale con un concetto di cultura che fa diretto riferimento a ciò che Raymond Williams descriveva come cultura cioè un ambito che in realtà non fa riferimento soltanto alla produzione culturale alta ma quell'ambito quell'orizzonte in cui viviamo e in cui in qualche modo formiamo la nostra visione e facciamo sì che noi stessi possiamo orientarci orientarci nel mondo io ho finito spero di essere stato nei tempi e quindi lascio la parola ad Alberto e a voi se avete delle domande allora ti ringraziamo molto Diego è stato una cavalcata affascinantissima in un mondo veramente bello un mondo affascinante un mondo sconosciuto forse molti di noi quello che interessa probabilmente a a noi come sociologi studiosi di tecnologia di scienza è avere uno sguardo di lunga durata anche sul presente non ci interessa di tanto essere storici non è il nostro compito ma capire da dove vengono le pratiche che usiamo quotidianamente quindi capire che per esempio non è colpa di internet se c'è questa diffusione di pornografia e di dipendenza da videogiochi ma risale a un'epoca un pochino precedente magari insomma i semi almeno si trovano si trovano lì ed è interessante capire cosa rimane di queste pratiche cosa rimane di questo percorso che è una lunghissima storia secolare quindi possiamo tutti insieme ragionare sul presente grazie al passato ricordo a tutti i partecipanti che possono scrivere le loro domande in chat se volete fare prima potete anche comparire in video e porre la domanda direttamente a Diego e intanto una ti chiedo una una cosa io un po' per capire un po' il percorso anche in termini di soggetti rappresentati mi sembra di che si possa dire che tra il film e il nastro non ci siano differenze sostanziali nel soggetto rappresentato dal cinema amatoriale si può ancora chiamare film di famiglia o movies quelli che vengono fatti e la vera rottura avviene più recentemente col digitale i film che abbiamo nei nostri telefoni non si possono più chiamare o movies sicuramente quindi ti chiedo mi confermi questa cosa che c'è una continuità tutto sommato tra le due pratiche ma sì e no nel senso che un'altra delle cose che mi sono dimenticato cioè una delle cose che mi sono dimenticato di dire riguardo proprio le affordances dell'oggetto tecnico è che per esempio rispetto alle cineprese quindi agli oggetti tecnici che utilizzavano la pellicola e il film il video consente di riprendere per una durata maggiore quindi vuol dire che invece di avere una cartuccia da tre minuti ho una videocassetta che mi consente di riprendere una o due ore di materiale e quindi succede che chiaramente magari io sto comunque riprendendo mio figlio ma da una parte ho le voci che entrano in campo e dall'altra ho molti più tempi morti rispetto alla ritualizzazione del quotidiano che invece è ben presente ed è in qualche modo esaltata dall'avere pochi minuti perché se hai pochi minuti ti concentri per esempio su una ritualità natalizia ti concentri su il pranzo poche secondi del pranzo lo scartare i regali eccetera eccetera qua invece avendo più tempo a disposizione e rientrando i tempi morti magari l'oggetto è lo stesso ma i modi in cui viene rappresentato sono completamente diversi perché appunto rientrano anche i cosiddetti appunto i momenti di pausa che non vengono tagliati poiché appunto la camera fondamentalmente è sempre accesa è possibile che in un determinato momento si scateni un diverbio che viene ripreso e questi sono tutti elementi che riprende anche uno studioso che si chiama Roger Rodin e che dice che fondamentalmente se il film è una sorta di rappresentazione idilliaca in cui campeggiano soltanto delle immagini felici all'interno del video si apre un nuovo spazio dell'io che è anche lo spazio del conflitto inoltre e in ultima istanza e poi appunto mi collego anche al presente cioè come vi ho fatto come vi ho mostrato descrivendo l'oggetto tecnico nel momento in cui io posso girare una videocamera controllando comunque la ripresa girare una videocamera e puntarla verso di me si apre un nuovo spazio dell'io che è lo spazio per esempio della confessione è uno spazio in cui la tecnologia viene in qualche modo distolta dalla famiglia e diventa una questione di appunto confessione di ripresa individuale un elemento che poi questo sì che invece è transitato nel nuovo orizzonte digitale accanto appunto alla dimensione della la dimensione gotica del selfie no? qua in qualche modo c'è la dimensione narcisistica del riprendersi quello dei metti caratteristici del video c'è ma c'è anche appunto la dimensione della confessione che in qualche modo sopravvive ancora oggi non so se ho risposto alla tua domanda benissimo grazie vedo che c'è una domanda non so se è ancora in corso perché ha puntato una domanda puntata di Giovanni Nascimbeni gliela lasciamo forse completare e intanto ti volevo chiedere un'altra cosa io se volete comunque voi partecipanti aggiungere domande potete farlo nella chat lo ricordo e cioè quindi tu mi ci hai detto che c'era un interesse diciamo tecnico il sapere espresso dalle riviste che rimaneva comunque un interesse per una fascia minoritaria di chi utilizzava quella tecnologia no che è rimasto diciamo costante anche questo nel passaggio dal film al nastro cioè i club di cinematori sono rimasti costanti nei passaggi tra le due epoche oppure si sono no allora io poi conosco posso prendere come posso fare un discorso generale e poi prendere come riferimento il contesto italiano che è quello che conosco meglio cioè a livello generale come dire uno dei formati cinematografici del passo ridotto ovvero il super 8 costituisce già un elemento di forte democratizzazione che consente diciamo una diffusione del mezzo a livello familiare individuale i cine club continuano il loro percorso ma a fianco di questo elemento cioè dell'utilizzo di queste tecnologie all'interno di cine club che per un certo periodo è centrale è dominante si affianca una dimensione diffusa di utilizzo familiare individuale non legato comunque al cine club con il video questa dimensione si accentua cioè la dimensione consumer individuale diventa preponderante rispetto agli orizzonti di cine club che perdono progressivamente importanza e quindi ci sono diversi tentativi di integrare la tecnologia video all'interno dell'orizzonte del cine club motivo principale perché nel momento in cui uno fa una copia video manda ai concorsi quella non manda più l'originale super 8 che poi rischia di perdersi ma poi oltre a questo ci sono dei per esempio nei festival della Fedici che è la federazione cinematoriale italiana la principale a un certo punto cominciano a essere accolte anche opere in video analogico il problema fondamentale è che questa dimensione la dimensione dei cine club perde progressivamente importanza a fronte dell'esplosione nel mercato consumer e con l'abbassamento poi del prezzo delle tecnologie che avviene fondamentalmente a metà degli anni 80 il video si diffonde più o meno in tutte le famiglie in buon avanzo sì praticamente in tutte le famiglie e quindi la dimensione più interessante e più importante del video non è tanto l'ambito dei cine club ma appunto l'ambito consumer benissimo grazie e allora c'è effettivamente la domanda di Giovanni Nascimben che dice credo sia cambiato anche il valore della registrazione una volta venivano conservate perché era una cosa rara oggi chi salva i video che vengono registrati con i telefonini per vederli fra dieci anni penso che sia un punto di domanda chi lo fa è una domanda retorica che però può avere una risposta che richiama anche le difficoltà di archiviazione il tema importantissimo dell'archivio ma sì questo sì ma una delle cose su cui è una domanda con cui mi confronto spesso nel senso che e secondo me una delle risposte e poi passo alla questione dell'archivio è che oltre all'esplosione e alla quantità di contenuti video con cui ormai siamo in contatto tutti i giorni e la facilità con cui produciamo video c'è anche una questione fondamentale cioè la facilità con cui noi produciamo delle copie di questi video con il film era praticamente impossibile cioè nel senso che uno doveva prendere e mandare questi queste pellicole a un laboratorio che effettuavano una copia costosa con il video questa questione diventa tra virgolette più facile perché è sufficiente collegare due videoregistratori e fondamentalmente in maniera rudimentale è possibile farlo però sempre in tempo reale cioè nel senso che se io ho due ore di video di riprese per due ore io devo impegnare il videoregistratore fondamentalmente anche sorvegliando nel senso che non ci siano glitch che non ci siano drop non ci siano problemi ora la facilità con cui noi duplichiamo i video è immediata cioè non c'è neanche più la questione del del tempo reale del tempo reale della registrazione e quindi più una cosa chiaramente diventa facile da replicare duplicare meno valore le si accorda e quindi come dire l'orizzonte stesso del video diventa una questione sempre più di consumo e non è detto che questo sia un male non voglio dire non voglio dare giudizi di questo tipo dico soltanto che nel momento in cui possiamo replicare più velocemente gli oggetti insomma i video automaticamente attribuiamo loro un valore più quotidiano più di consumo e ci come dire preoccupiamo di meno del modo in cui potremo potremo conservarli l'altro l'altra questione che secondo me è cruciale è che molto spesso noi prendiamo questi video li pubblichiamo su una piattaforma social e pensiamo che la piattaforma social diventi il nostro archivio personale cosa che sappiamo è altamente problematica per questioni anche di diritti non sappiamo che tutto quello che viene pubblicato su Facebook in qualche modo diventa proprietà di Facebook o comunque viene utilizzato per come dire identificarci per profilarci l'altra questione che si apre è quella che appunto mi indicavi tu Alberto cioè che questi materiali i materiali video stanno entrando adesso negli archivi perché per anni si è detto vabbè ma tanto sono delle riprese appunto videoamatoriali la possibilità di copiarle è immediata ed è facile per cui non ci poniamo neanche il problema di elaborare dei protocolli di archiviazione per dei materiali che appaiono talmente effimeri nella loro insignificanza e adesso invece ci stiamo cominciando a porre questo problema qua e quindi non è detto che tra 10-20 anni non cominceremo a porci anche il problema della conservazione dei video che abbiamo girato sul telefonino è sempre una questione di distanza sì c'è un'altra domanda di Davide Vandelli se è possibile vorrei fare una domanda per chiedere al professor Cavallotti di ripetere la semiotica degli oggetti in che senso l'oggetto non è inerme ma non è inerte non è inerte cioè non è un blocco che non risponde ai nostri stimoli un oggetto tecnico anche se appunto ci appare come ok comunque vabbè non è appunto un blocco inerte non è non è un qualcosa che è chiuso in se stesso un oggetto tecnico si apre alla nostra interazione in funzione di determinate condizioni di possibilità tecniche che coincidono con le sue proprietà allora nel momento in cui io stabilisco questo rapporto stabilisco un rapporto anche con con l'oggetto tecnico stabilisco anche un rapporto con le sue proprietà c'è un incontro che è fatto di feedback io mando determinati stimoli l'oggetto tecnico me ne rimanda altri indietro e quindi non è che faccio semplicemente qualcosa con l'oggetto tecnico io faccio fare qualcosa all'oggetto tecnico che pone delle resistenze in funzione delle sue caratteristiche benissimo se non ci sono altre domande io ringrazierei moltissimo Diego Cavallotti è stato veramente interessantissimo un bellissimo pomeriggio ti ringraziamo ancora anche penso a nome di tutti i partecipanti che non abbiamo visto o abbiamo soltanto intravisto e non abbiamo sentito grazie a nome di tutti ricordo a tutti che il prossimo seminario di questo ciclo sarà martedì 20 ottobre ore 17 con Luciano Floridi che ci parlerà di intelligenza artificiale Diego grazie mille grazie a voi dell'invito e ci vediamo presto benissimo a presto a tutti buona serata grazie a tutti piacere ciao grazie a tutti Grazie.